salve gente devo dire assolutamente un annuncio che sono stata avvelenata gas di guerra di queste proprio villenosi umicidiali e sono terzo giorno con febbre 39 era 38 5 adesso forse 38 perché anche caduta termometro è spaccato terzo giorno febbre tosse di aree mal di gola tutte cose insieme solo perché doveva andare a noro sono in sardegna per una udienza un'udienza con un perps un psiop uno un stalker quale mi rompeva scatoli quattro anni fa e continuo a rompere ogni tanto anche arriva tra 30 chilometri per minacciarmi di morte sua figlia anche fa minacci urla offesi racconti quale mai successe alla strada fatto spettacolo di strada ragazzina di 18 anni piccato già già rovinata e potete fare magari velocità due perché parlo sono troppo debole parlo molto piano ecco allora il 30 giugno presa autobus come mia macchina è bruciata da quel tipo malavasi simone di sante adoro tutta sua famiglia è stalker e anche magia usati a tonnellate usano magia questa nera ogni tanto anche non riusciva alzarmi mattina dal letto ha avuto sopra peso di tonne sul di me tempi ai tempi quelli e allora torniamo 30 giugno presa autobus alle 6.40 olbia siniscola dove dietro seduta ragazzo fatto credo che spari perché mi fatto girare la testa molte lui subito appena uscita appena salito il subito sceso ha fatto suo lavoro il subito sceso non c'era più ora arrivando a siniscola cambiando autobus per nuoro io ho visto tipo assolutamente fuori come da galera uscito da galera insomma un tipo faccia criminale quale amico anzi seduta al seconda metà di autobus e lui stava in piedi in piedi tra prima metà di autobus e seconda metà c'era spazio e allora stava in piedi lì e fare fare su girare sigarette fare sigarette e mi guardato con quel sorriso schifoso proprio da giuda io sono spostata davanti un po prima metà di autobus dove c'erano posti ma ragazze io stesso ho cominciato a sentire già subito male mi usci da casa naturalmente prima salute in ottima forma uscita e di questa metà di casa dopo dopo lì da siniscola a nuoro hanno messo quel gas non lo so come hanno mettono al punto lo so che autobus intercity usano queste in aria condizionata usano gas gas villenosi gas di guerra lo so e non è prima volta tante tante gente raccontata già ma non capisco come punto al danno solo a te o mi prima ai villanati perché era già seduta da sola perché sono seduta lì più avanti autobus ma c'era gente non avanti dietro ma c'era gente ma subito sentita già febbre mi cominciava a tremare febbre non ho sentito però tremare sentita allora sarebbe stata febbre tremo 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 male 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 è arrivata a nuoro scesa assolutamente distrutta e allora distanza di questa scesa e da tribunale era non lo so cinquecento metri questi cinquecento metri non volevano che andava in questa udienza perché dovevano parlare questi testimoni era io accusava loro che perché ho visto lui rubato mio cellulare e mio computer avanti di me invece molia ha detto che era con lui lui era con lei e allora sarebbe colunia e allora questa denuncia di colunia contro di me allora denuncia contro di me e non volevano che arrivassi io quando parlano questi testimoni e chiedere qualche fatti qualche domanda domanda quale scomodo per loro o naturalmente scoprire solo loro bugia per questo già mia testa naturalmente non funzionava bene non funzionava bene non ragionava bene e ha passato passato in farmacia in farmacia mi hanno misurato pressione ero 54 per 73 febbre era 38 e mezza in questa stata quale non riusciva neanche muoverci io doveva andare in tribunale in queste due ore io riuscita superare questa distanza e arrivata in tribunale avvocato corrotto io sapevo già perché solo perché ho già dimostrato molte volte suo finto di essere mio avvocato sempre erano mio accusatore e allora ma non riuscito a fare queste tante domande normali quale dovevo fare ma riuscita dare denunci un sacco di denunci un sacco di foto di mangie denunci contro che mi ha bruciato la macchina che sapondo che lui perché minacciato appena e fra di settimana era bruciato la mia auto ecco riuscita riuscita dare queste denunci avvocato ho visto quelli quando io sono passata a giudice quelli denunci prima voleva togliere lui voleva perché io ho detto che ce l'ho queste denunci lui voleva togliere da me io ho detto ma lei ce l'ha queste denunci io ho spedito anche un anno fa tutte queste denunci copie a lei capito e lui voleva adesso tirarmi da mani queste denunci io non le ho dato allora lui ha detto subito lascio caso ho detto va bene adesso siamo udienza e già dopo questa udienza lasciamo caso magari doveva fare prima magari magari allora sarebbe meglio facciamo domande questi testimoni ecco ecco e adesso terzo giorno piano piano mi sta abbassando febbre trovo un sacco di un sacco di conseguenze diverse tutte cose insieme dappertutto è questa cosa allora allora ricordo caso di Catherine Horton voi se conoscete una ragazza inglese vittima di stalker stalking organizato quale non riuscita era udienza finalmente fissata non riuscita non riuscita fisicamente arrivare in tribunale a Londra capito stessa cosa fate distruggere lei fisicamente che non riuscita arrivare in sua udienza sembra che adesso lei in Svizzera ma stesso stanno facendo un sacco di disastri anche la in Svizzera non si scherza sono vissuta in Svizzera in Svizzera proprio questi stalker e pazzesco mafia organizzata pazzesco a voi auguro tutto ricevere dietro sarà bumerango deve arrivare a questi stalker perps assolutamente arriva ragazzi non si fa queste cose no arriva lo saluto pazzesco a le b